Le modifiche approvate ieri dal Consiglio regionale alla legge sulla caccia in Lombardia stanno facendo discutere le associazioni animaliste del territorio, in particolare a far strocere il naso alle associazioni l'incompatibilità dei nuovi emendamenti con la legge nazionale. Noi riteniamo come associazioni ambientaliste e animaliste lombarde che sia un'ennesima presa per i fondelli per il mondo venatorio perché molti di questi emendamenti, molte di queste modifiche semplicemente vanno in contrasto con le normative nazionali e anche addirittura con le normative europee e quindi saranno rigettate, si faranno ricorsi al TAR e come al solito sarà necessario ricambiare la legge regionale sulla caccia togliendo questi emendamenti. Quindi la presa per i fondelli, cioè praticamente si danno dei regali al mondo venatorio che si sa benissimo che però poi verranno nuovamente tolti perché sono anticostituzionali. Per esempio uno di questi emendamenti che è stato approvato prevede che gli animali feriti, gli uccelli feriti vengano curati e possano essere utilizzati come richiami vivi. Che cosa sono i richiami vivi? Sono una roba bruttissima, cioè uccelli che vengono ingabbiati cantano in quanto ingabbiati, attirano gli uccelli liberi così è più facile sparargli. Ebbene i richiami vivi per essere considerati legali devono però avere degli anelli inammovibili e quindi questo emendamento è semplicemente un emendamento che va in contrasto con la normativa nazionale. C'è poi un emendamento che prevede la creazione di nuovi appostamenti fissi di caccia in zona Alpi, addirittura sui valichi alpini non si può per cacciare gli uccelli migratori una roba che non si può fare. Pensiamo che il mondo venatorio e soprattutto i consiglieri regionali dovrebbero occuparsi di cura del territorio dovrebbero occuparsi di biodiversità eventualmente dovrebbero occuparsi di fauna stanziale e invece si occupano di come abbattere più facilmente gli animali. È brutto tutto questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.